Vai, facciamo Empower, facciamo Stealth in 3, 2, 1, Stealth Come 1, get home, come, 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 come come これ Buongiorno a tutti la stessa l'anno dei latti siamo stati in 3, 2, 1, 3 latti come meti, come meti, come meti tutti i tuoi, andiamo indietro, andiamo indietro come risconta di sentare in 3, 2, 2, 3 in silenzio in silenzio muoviamoci, muoviamoci in 3, 2, 1, aspetta qui stai davanti muoviamoci, muoviamoci Sui resist, su di me resist. Buon le guanti buon le guanti. Pusciamo adesso. Tutto danno qui. Tutto danno qui. Pusciate qui. Pusciate qui. Pusciate qui. Pusciate qui. Pusciate qui. Pugge. 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 Mi farei il telefono chiuso. Pugge. Infatti si stava bene. facciamo un po' per ora 3, 2, 1 facciamo un step ora, step visto di me, blast come come venite vieni qui aspettiamo in 3, in 2, in 1, aspettiamo qui di nuovo 3, 2, 1, aspettiamo, 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 asp dietro 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 3 1 blast come come andiamo 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 si andiamoci sono tipo uno spike siamo spike qui in 3 2 1 spike qui davanti ma non li pusciamo non li pusciamo come come si sta in range da range da range da range daedge facciamo eva lo spike r mee come 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 viene e ti spi d expi dc spi dc spi occhio lo spike bolla via adesso Sì, stanno a tutti Rosimi qui, sui 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 sui. The phy Stava beneuka Facciamo il power 3 2 1 Arrivano diretti eh? No 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 Arrivano diretti No 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 Ristettiamo qui 3 2 1 Aspetta blast Venite qui come me qui come me qui come me Non attaccate non attaccate non attaccate Andiamo 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 Venite vi spike qui in 3 2 1 Spike qui in loro venite riscriviti Teniamo i damage Fursate damage 3 2 1 ripruciamo 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 Sì ehm Vabbè Cucciamo Curiamoci Ligirebbe arrivare i gg No 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 Quora no Come me come me Facciamo spike qui Ok Ok lo danno Vieni in dietro Curiamoci Di me Emiş Le riusciamo i damage Le riusciamo i damage Vai grig Grazie Sì Siamo rimasti in 3 ti senti indietro? ti senti indietro? ti senti indietro? no sono educato no no vabbè non vengono ti senti messo facciamo l'ultima in prova 3,2,1 blast bisogna andiamo a pusciare non mi fa male andiamo andiamo facciamo un spy qui 3,2,1 dai qui davanti perchè si fa sempre ragazzi si fa sempre le infamati e guarda quanti down si lo so che è messo dopo averlo subito ragazzi si sta agruppando ora si muore facciamo 6 spy su di noi 6 spy qui 6 spy qui 6 spy qui si è messo si è messo su di noi si è messo ora si è fatta ora si è arrivata basta andiamo via basta cambiamo border un albero un albero un albero cambiamo border andiamo su non lo so 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 Grazie.